Bene, possiamo ora cominciare con i nostri saluti istituzionali. Chiamo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Grazie a tutti. A partire dalla rivoluzione digitale che sta attraversando la nostra società e dove vanno appunto la società ma soprattutto la scuola. Riguardando gli appunti delle scorse edizioni mi sono reso conto di come di anno in anno veramente facciamo dei passi avanti molto rilevanti nella comprensione di quello che sta accadendo. Io personalmente, che ho guardato in alcuni momenti con molta incertezza e timore a questa rivoluzione, mi sono via e via convinto che le opportunità di trasformazione positiva della vita delle persone, del lavoro, siano enormi, che sia davvero l'occasione per migliorare la condizione umana, lasciatemelo dire in questo modo, e che però questa sia solo una faccia della medaglia e che si debba necessariamente soprattutto per chi si occupa di educazione preoccuparsi anche dell'altro. Gli aspetti positivi li conosciamo, siamo di fronte ad un cambiamento che non risparmia credo nessun ambito della nostra vita, dall'esperienza lavorativa, alle relazioni personali che rivoluzioni i settori del lavoro, che trasforma la mobilità, che condiziona i rapporti con l'ambiente. Non è l'unica rivoluzione che è in corso, ce ne sono tante, la globalizzazione, le immigrazioni, i cambiamenti climatici, e queste cose che avvengono tutte insieme forse rappresentano uno shock per i cittadini delle società occidentali particolarmente rilevante, forse unico nella storia dell'umanità. Tornando al digitale, i cambiamenti che questa cosa sta inducendo sono raccontati, se non l'avete letto, in un libro di Alessandro Barico, che ho cercato di avere qui, in questa occasione mi sarebbe piaciuto che potesse partecipare a questi stati generali, ma è all'estero. Questo libro si chiama The Game e racconta come quella che sta avvenendo è una rivoluzione mentale, in cui cambia proprio l'esperienza, il rapporto con il mondo, e la realtà è come se si sdoppiasse. Ci sono due motori della realtà, il mondo reale e il mondo virtuale, e cambia addirittura la postura, dedica un capitolo alla postura uomo-tastiera-schermo, che non è soltanto un fatto fisico, ma è proprio un fatto di portata antropologica. E riconduce, a proposito di rovescio della medaglia, a questa rivoluzione digitale in cui siamo immersi, tutta una serie di problemi che conosciamo, il disorientamento, il rifiuto della profondità, l'assunzione della superficialità come standard del rapporto con le cose, a partire da come in superficie, sullo schermo del nostro smartphone o computer, appaiono attraverso l'icona le cose e gli strumenti con cui costantemente interagiamo. E quindi il culto delle scorciatoie, la disintermediazione, e anche l'idea, l'impressione che facilmente la persona possa, attraverso l'uso di quegli strumenti, dominare la realtà. Un senso di ipertrofia dell'ego da cui derivano molti altri fenomeni, che oggi sarebbe lungo raccontare. Di fronte a questi cambiamenti, il tema è capire che ruolo ha la scuola. Credo sia questo il punto. Allora, io proverei a dividere in due. Il primo è quello di formare delle persone. La scuola costruisce dei percorsi formativi che hanno il lavoro, la dimensione lavorativa come orizzonte successivo. Una cosa che abbiamo capito è che il modo in cui noi abbiamo pensato di preparare i ragazzi, gli studenti, alla vita lavorativa in vista dell'uso delle tecnologie, quel modo iniziale era un po' ingenuo. Erano pochi anni fa quando noi pensavamo che si dovesse dotare la scuola di tanti strumenti digitali, e faceva notizia all'uso dei tablet in alcuni licei. Ora, quello che capiamo è che quella trasformazione digitale che cambia profondamente il lavoro, siamo qui in un territorio manufatturiero, in industria 4.0, è una realtà che potete andare a vedere direttamente, quella cosa non richiede in primo luogo competenze tecniche. Non è una questione di competenze tecniche, ma anzi, il fatto che sempre di più le macchine facciano le cose che in precedenza facevano le persone, in particolare le mansioni più rutinarie, questo vale per le fabbriche, ma anche per gli uffici, potenzialmente libera il lavoro, ma richiede lo sviluppo di competenze molto più mature, cioè quelle che in precedenza appartenevano al set di competenze dei livelli manageriali, oggi sono richieste anche ai lavoratori, invece diciamo delle condizioni più ordinarie. E quindi il tema diventa quella della capacità di governare la complessità, la flessibilità, la capacità di risolvere i problemi, la motivazione, la resistenza allo stress, la capacità di gestire il tempo, di coordinare il lavoro di squadra, la creatività. La creatività che abbiamo ritenuto essere un lusso per pochi, oggi è un requisito anche di chi lavora in fabbrica. La precisione, l'attenzione ai dettagli, sono quelle che nel linguaggio, diciamo, degli educatori sono le soft skills, e che oggi rappresentano probabilmente la prima missione educativa degli insegnanti, dai livelli della scuola primaria, anzi, prima ancora, della scuola materna fino ai livelli superiori. È una scommessa non semplice, non semplice, perché riuscire a far emergere queste, allenare queste capacità nei ragazzi, credo che sia particolarmente complicato, e richiede un ripensamento anche della direzione di marcia in cui la scuola si era incamminata su questi temi fino a poco tempo fa. Il secondo è capire che cosa sta succedendo ai ragazzi, perché non soltanto i cittadini sono completamente immersi in questa realtà digitale, non soltanto noi adulti, ma sappiamo i ragazzi e i bambini sin dall'età prescolare. Oggi viene presentata una ricerca, una ricerca condotta dall'Università di Padova, con l'Università Bocconi, il Centro Studi Impara Digitale, che dice qual è lo stato dell'arte, quali sono le conseguenze dell'uso così ampio dei device digitali da parte dei nostri figli, dei vostri studenti, dei bambini a cui insegnate a scuola. Non anticipo le conclusioni, vi dico soltanto che c'è una lucina rossa che lampeggia, che c'è una lucina rossa che lampeggia, che dice che, oltre a tutti gli aspetti positivi che certamente ci sono, l'utilizzo esteso per ore durante la giornata, molto spesso nelle ore serali, dopo cena, in camera, fino a tarda ora, determina delle conseguenze sullo sviluppo cognitivo e sulla salute dei ragazzi. E quello che mi colpisce è la difficoltà delle famiglie a governare questo processo, a gestire in modo consapevole opportunità e rischi legati all'uso di questi strumenti da parte dei propri figli. Anzi, molto spesso c'è una superficialità che porta a riempire il tempo con questi strumenti. Cioè, laddove non ho migliori contenuti educativi da proporre ai miei figli, gli metto in mano un telefonino, un videogioco e così il tempo si riempi. Ora, guardate, questa è una seconda missione educativa che rimbalza su questa platea importantissima. La prima l'abbiamo detta, e cioè sviluppare quelle competenze trasversali di flessibilità, di reattività, che oggi richiede il lavoro che si trasforma, questa forse è ancora più rilevante, perché, come dire, si manifesta sin dai primissimi gradi della scuola, ed è una necessità di dare una mano alle famiglie, di essere a fianco delle famiglie. non è una novità questo, è il vostro mestiere, ma oggi c'è una ragione in più legata a questa condizione, in alcuni casi direi come emerge dalla ricerca, si tratta di una emergenza, che richiede una presenza dei docenti, degli insegnanti, della gente che lavora nella scuola, più forte e più consapevole che in passato. quindi mi auguro insomma che l'occasione di oggi sia quella di poter ragionare insieme su queste cose, di prendere cognizione, consapevolezza di nuove sfide che ci aspettano e vi aspettano prima di ritrovarci l'anno prossimo con altri capitoli di questa riflessione che stiamo conducendo. Grazie. Grazie.